Avvistati degli esemplari di murene, una specie di pesci anguilliformi che hanno destato scalpore tra i passanti lungo la battigia delle spiagge fanesi. Questa specie comunemente conosciuta nei mari tropicali, dove hanno la massima diversità, vivendo in temperature calde, di solito su fondi a bassa profondità, sono comparsi anche nel mare adriatico. Quali sono le caratteristiche delle murene? Le murene sono dei pesci, dei pesci ossei, appartengono al gruppo di murenoidi, diciamo parenti dell'anguilla, del gronco, solo che è una famiglia di pesci che sono compressi lateralmente, mentre l'anguilla ha una sezione quasi tonda, queste qui sono compressi e hanno delle caratteristiche biologiche molto simili a quelle di altre del gronco, tanto per dire. Vivono normalmente nelle zone costiere, rocciose, perché loro vivono negli anfratti, nell'ambito delle rocce, e si nutrono di quelli che sono dei piccoli crostacei, dei cefalopodi, ossia dei moscardini, dei folpi. Queste murene sono dei pesci che direi sono frequenti dove ci sono queste condizioni ecologiche, quindi queste zone di scoglio, di roccia, di pietra, dove loro devono fare la loro tana, stare nascoste, fare l'agguato, quando gli passa davanti qualche cosa riuscire ad acchiapparlo e sono anche abbastanza attrezzate bene, perché sono dei pesci che possono raggiungere anche una dimensione di oltre un metro, un metro e venti, un metro e trenta come lunghezza massima. Sono dei pesci che sono attrezzati con una buona dentatura, hanno dei denti sia sopra che sotto, quindi quando danno un morso riescono a trattenere la preda che non scappa. Questa specie si può trovare nel mare Adriatico? Sono sicuramente presenti in tutto il Mediterraneo, ma non solo nel Mediterraneo, ma anche in Adriatico, solo che in Adriatico noi a Fano normalmente non abbiamo una grande quantità di ambienti rocciosi dove queste possono vivere, quindi non ce ne sono tante, ma sono state segnalate diverse volte, ad esempio sotto il monte di Pesaro, sono state segnalate al Conero, sono delle specie che si spostano, quindi a un certo momento una volta il giovane, man mano che cresce, cerca di trovare una tana più grande, un ambiente, quindi fa degli spostamenti. Sono nocive per l'uomo? No, non è nociva a un certo momento, è un predatore come tale che se uno non gli disturba non gli dà nessun fastidio, solo che se a un certo momento uno comincia a entrare nel raggio d'azione, gli va vicino alla scogliera dove questa sta davanti alla sua tana, gli ci passa e c'è una dimensione di un dito, di un qualche cosa che gli possa dare un morso, quella glielo dà il morso, non è un predatore che scappa, è un predatore che attacca. La morena è una specie commestibile? Certamente, è commestibile ed è anche molto pregiata, tengo conto che già dall'epoca dei romani tenevano nelle piscine le murene proprio per mangiarle, non è che le tenevano lì per bellezza, sono dei pesci che hanno dei bei colori, diciamo in particolare la murena Elena, che è quella che è stata trovata spiaggiata, è un pesce che ha queste macchie giallastre sul fianco, che è bello anche da vedere, molto elegante quando nuota, sinuoso, riesce a rigirarsi in tutti i modi possibili e così via. Evidentemente direi che la pesca la può prendere, ma con cosa la prende? O con delle nasse, oppure con delle reti da posto o con gli ami. Però sono molto apprezzate e quindi sui mercati raggiungono anche dei prezzi elevati, solo che nel mercato di Fano, non essendo una specie presente, non essendoci nessuno della zona che fa quel tipo di pesca, normalmente non ci sono.